Le prime notizie di sabato 18 novembre. Matteo Cappelluti non ce l'ha fatta. Il 17enne di Bari che mentre andava a scuola giovedì mattina è finito fuori strada con la sua moto in corso al Cide De Gasperi schiantandosi contro un palo e morto nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Venere. L'adolescente frequentava il liceo scientifico Scacchi ed era anche il portiere della squadra di calcio della Virtus Mola. E Federica Pizzuto, 21 anni, originaria di San Marco Inlamis, provincia di Foggia, ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto sulla tangenziale sud di Pescara. La ragazza che studiava medicina all'università di Chieti era alla guida della sua Ford Focus che si è schiantata frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un operaio 59enne, ora in fin di vita in rianimazione. Sarà processato con rito abbreviato il buttafuori albanese di 28 anni che uccise a pugni il vigile del fuoco foggiano Giuseppe Tucci, di 34 anni. L'omicidio avvenne all'esterno di una discoteca di Rimini, città nel cui aeroporto Tucci prestava servizio. Padre di un bimbo, il vigile del fuoco morì dopo giorni d'agonia. L'omicida è da 5 mesi in carcere. Mamma, papà e figlia di 7 anni di Fasano sono stati spiati per settimane con due microcamere collocate nella loro abitazione. È stata la donna ad accorgersene insospettita da una spia luce rossa nell'aspiratore del bagno. La procura sta indagando per scoprire chi abbia collocato le telecamere e se le immagini siano state registrate e diffuse su siti di wire o pedopornografici. Patrizia D'Addario si è incatenata ieri davanti al tribunale di Bari. La donna, le cui rivelazioni nell'estate 2009 fecero scoppiare lo scandalo delle feste con l'escort a casa di Berlusconi, sostiene di subire da 15 anni ingiustizie e di essere finita all'inferno dopo aver raccontato la verità. Ha chiesto di parlare con un magistrato. Per la prima volta al centro-sud sono stati eseguiti due interventi di chirurgia fetale all'ospedale di Venere di Bari. Hanno interessato due donne, entrambe al quinto mese di gravidanza gemellare, una con due feti e l'altra con tre. In entrambi i casi i feti erano affetti da una patologia tipica dei gemelli per cui un feto riceve poco sangue e l'altro ne riceve troppo mettendo a rischio la vita di entrambi. L'intervento consiste nella laser coagulazione. L'attore Raul Bova e il cast dei Fantastici 5, una nuova serie tv in otto puntate di Canale 5, hanno presentato a Taranto la fiction dedicata agli atleti diversamente abili nel corso dell'ultima giornata del Festival della Cultura Paralimpica. Bova è il protagonista insieme a un gruppo di giovani attori e di atlete paralimpiche. Non solo giochi del Mediterraneo 2026, Taranto sarà città europea dello sport 2025. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport. Per ottenere il riconoscimento Taranto ha superato l'istruttoria durante la quale sono stati valutati i 12 requisiti richiesti. Meteo, oggi e domani. In Puglia le temperature massime scenderanno fino ai 14 gradi di Bari e Lecce e ai 16 di Taranto. La minima invece si aggirerà intorno ai 10 gradi. Previsto però bel tempo ovunque, sole e nessuna precipitazione. Allerta gialla della protezione civile invece per venti da forti a burrasca in rotazione dei quadranti settentrionali con forti mareggiate lungo le coste esposte. Prestare, come sempre in questi casi, la massima attenzione. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a lunedì mattina.